Unitelma Sapienza, che ringraziamo. Do subito la parola al magnifico Rettore per l'introduzione iniziale. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti che si hanno un po' obbligato a analizzare il tema perché in occasione di parlare delle cause che sono le pompe valide, ma anche perché chi usa forza passa la storia del diritto vale che si dà vale ma si ha risultato e anche perdere la lista però noi come università noi si occupano da anni l'Europa l'Italia storico ma anche storia del genio bisogna anche però il mercato è che mi hanno pensato sì sì tra quale la questione domanda è per la prima volta o è uno dei rari casi dove siamo sempre trovati per trovare una comprensione laddove possibile attraverso una serie di state fuoco che poi magari poi interrompeva il tuo caso è potente delle cose di lavoro gli studenti sappiano sappiamo il tempo passi forse un anno sappiano però che questa è una questione la metà sulla cieca da fare se Cristo la vita crediano la zona per anni per la zona per la giusta e la città cioè in qualche modo nei momenti di crisi purtroppo si rispolverano anche dei miti che hanno più al senso i giorni però questo è fatto evocare anche serie di aspetti e quindi se non possiamo tenere conto di questa storia di lungo periodo poi con il canto che ha una breve indipendenza subito dopo la prima guerra mondiale come molti paesi erano soggetti per i nostri studenti con l'Italia negli anni 19-19 fu una delle che propugnava l'indipendenza in queste nuove realtà dovremmo dire di merito politico che abbiamo perché effettivamente era una visione anche di lungo periodo certo c'erano delle ragioni politiche per cui una piccola potenza come l'Italia propugnasse l'indipendenza di questi paesi era più interessante nei Balcani soprattutto che invece di la formazione della Jugoslavia si determinasse invece una realtà di tanti piccoli stati con i quali l'Italia poteva avere anche una sorta di egemonia politica quella culturale ce l'aveva già parte da Venezia dalla Repubblica Marinare quindi vi faccio fare una galoppata storica forse senza precedenti insomma di secoli venendo però poi alla fine dell'Unione Sovietica 1989 questo è importante che si sappia c'è un discorso se volete privato tra Gorbachev e Bush dove si dice che la Nato non sarebbe mai arrivata ai confini della Russia questo è un elemento importante perché l'ossessione della sicurezza è un elemento che appartiene all'impero zarista prima e all'Unione Sovietica dopo quindi è una costante della politica russa chiamiamola in questo modo declinata in modo diverso lo zarismo è un sistema teocratico addirittura lo zar è anche il capo della Chiesa Ortodossa quindi immaginate che differenza con quella che sarà l'Unione Sovietica che si basa sul marxismo poi rielaborato da Lenin un sistema produttivo come dire centralizzato fine della proprietà privata e anche la dittatura del proletariato quindi due sistemi completamente diversi che però hanno la stessa ossessione della sicurezza potremmo dire un ulteriore elemento che vi do per ricordarvi tutto questo Stalin nel 41 quando l'Unione Sovietica era sotto come dire l'attacco della Germania nazista dopo alcuni giorni di scomparsa totale quando è riapparso disse mai più la guerra nel nostro paese e l'Europa orientale quella cintura di paesi quella fascia di paesi che dal Baltico andava fino ai Balcani fu una pretesa di Stalin proprio immaginando una riproposizione dell'espansionismo tedesco per poter non più combattere la guerra sul proprio territorio quindi questo è un elemento di cui dobbiamo assolutamente tener conto bene si promette a Gorbachev che la Nato non sarebbe arrivata ci sono dieci anni di caos in Russia potremmo dire per la difficoltà di passare da un sistema come quello sovietico a un sistema virgolette democratico l'Occidente non capì bene quello che stava succedendo non appoggiò Yeltsin che forse insieme al suo ministro Kaidar di cui noi abbiamo tradotto con il professor Natalizia qui presente il professor Giannotti che ci ascolta da Mosca il volume diciamo le memorie che quest'uomo scrisse al titolo era il crollo di un impero il quale raccontava come era stata fatta la privatizzazione in Unione Sovietica e non abbiamo il tempo di parlarne ma fu una cosa che poi determinò le grandi fortune di ricchezza perché tutta la proprietà statale fu divisa in buoni per ogni singolo cittadino la sfiducia dei cittadini nel sistema statale era tale che tutti vendettero questi diciamo buoni come se fosse carta a straccia e questo ha consentito a chi evidentemente ci aveva già delle risorse accumulate forse illecitamente c'era di farsi poi queste grandi fortune i famosi magnati russi che hanno invaso l'Europa il mondo eccetera e si sono comprati tutte le grandi aziende poi russe questo è il quadro d'insieme quando Yeltsin non ce la fa più e passa diciamo il bastone del comando a Putin siamo nel 99 c'è la guerra nei Balcani quindi non è la prima guerra in Europa come è stato detto questo eventualmente in pochi anni la seconda guerra che avviene in Europa la Russia che ha sempre storicamente protetto i serbi chiese che non venisse bombardata Belgrado gli occidentali assicurarono che non avrebbero bombardato Belgrado e questo poi è avvenuto quindi questo ha fatto cadere qualsiasi propensione di fiducia verso l'Ucraina man mano la Nato si è diffusa Polonia tutti questi paromani eccetera rimaneva fuori l'Ucraina vi ricordo che il presidente Prodi che è stato forse il più grande animatore dell'allargamento a est dell'Unione Europea disse se tocchiamo l'Ucraina bisogna rimodellare la politica con la Russia perché la Russia questo non lo accetterà mai siamo nel 2013 2014 quando Prodi disse queste cose se ne intendeva perché le aveva vissute come presidente della Commissione Europea quando faceva le trattative per l'allargamento quindi era come dire un'indicazione molto 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 precisa crisi appunto del 2013 2014 ce ne sono state altre quella in Georgia quelle risparmio perché non abbiamo molto tempo dove sempre c'era anche un po' come dire il sostegno sotterraneo della Russia ma come dire meno cogente di quello che è l'Ucraina che è considerata dai russi una terra propria professore Russo mi disse tanti anni fa è come se dicessero che la Toscana non appartiene all'Italia perché loro annettono questo significato giusto o sbagliato che sia però questa è la dimensione se volete psicologica morale di questa vicenda accordi di Minsk si garantisce una sorta di pericolette neutralità in qualche modo dell'Ucraina e invece poi andando avanti si continua a fare progetti sulla presenza della Nato e sull'ingresso nell'Unione Europea questo è lo stato dell'arte questo significa che Putin fosse autorizzato a fare quest'azione di guerra no perché bisognava continuare e era necessario che anche la Russia continuasse a fare le trattative con la Nato con l'Unione Europea perché ciò non avvenisse ma le cose sono andate troppo avanti con il professor Natalizia che è qui presente abbiamo ricordato anche tutte le manovre fatte al confine proprio dell'Ucraina quindi più segnale chiaro di quello di una mobilitazione non poteva esserci e poi la situazione esplosa dove sono le nostre carenze nostre come chiamiamolo mondo occidentale difficile da configurare sono nel fatto che non si è tenuto nel debito conto quello che era la propensione di chi non ha molto da perdere perché la Russia una volta fatta la grande alleanza con la Cina come attualmente parentesi Cina e Russia zarista sovietica non hanno mai avuto buoni rapporti pensate solo che Stalin imponeva ai comunisti cinesi di allearsi di Shanghai che era sicuramente forse uno dei più anticomunisti esistenti all'epoca piuttosto che con Mao vi do questi elementi per dirvi come la situazione fosse completamente diversa tutti gli anni dopo la seconda guerra mondiale sono stati caratterizzati da incidenti di confine tra cinesi e sovietici chiamiamo perché allora era unione sovietica bene invece con questa politica che l'Occidente ha fatto ha spinto la Russia verso la Cina l'accordo esiste e questo significa per la Russia un retroterra di approvvigionamenti senza pari chiunque è in grado di capirlo conoscendo la potenza che oggi ha la Cina sul piano economico su tutti i piani quindi da questo punto di vista come dire può anche andare disinteressarsi di quello che possono essere le sanzioni che l'Occidente applica oggi siamo in presenza di una guerra è inutile che ce lo nascondiamo questa è una guerra a tutti gli effetti tanto è vero che è stato previsto dalla Russia anche l'uso degli armamenti nucleari convenzionali per chi non lo sa gli armamenti convenzionali sarebbe non l'uso dei missili atomici ma delle normali lo dico con grande tragedia andiamoci delle bombe come dire a mano però con il contenuto diciamo atomico eccetera dove è il rischio vero reale è che da qui un piccolo incidente porta a un escalation può portare a un escalation del conflitto oggi poco fa è stato bombardato il palazzo del governo e non sono bombardamenti casuali questi sono bombardamenti mirati si sono mosse le truppe dalla Bielorussia quindi significa che a questo punto la Russia non si ferma nell'occupazione dell'Ucraina quindi sarà ancora più problematico una volta che il conflitto come ci auguriamo tutti dovesse come dire terminare sarà ancora più problematico convincere la Russia a fare un passo indietro in qualche modo chiudo dicendo c'è una oggi l'opinione pubblica del mondo occidentale ma anche nella stessa Russia si stanno muovendo in favore della pace perché sono importanti queste manifestazioni perché dobbiamo augurarci che possano stimolare i leader dei vari paesi a non solo aiutare l'Ucraina nella sua resistenza ma soprattutto a trovare una formula per uscire da una situazione che veramente tra le tante tanti conflitti che abbiamo conosciuto in questi anni sembra tra le meno risolvibili per quel problema che dicevo all'inizio dove non sembra esserci qualcuno che possa autorevolmente imporsi come mediatore mi taccio perché credo di aver superato i tempi vi chiedo scusa ma questa premessa generale era importante per capire di che cosa parleremo dopo grazie 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 al magnifico rettore per aver citato anche gli elementi iniziali per introdurre questo incontro voluto lo ribadisco ancora una volta dagli studenti di Unitelma Sapienza saluto anche la rappresentante del insenato accademico la dottoressa Monica Arcangeli che è qui presente e tutti coloro che ci stanno ascoltando qui in chat ne vedo collegati già tantissimi quindi grazie ancora a tutti coloro i quali invece hanno aderito all'invito partiamo subito da coloro che sono collegati da remoto chiamo in causa il professor Gastone Breccia che insomma è un grande esperto di storia militare e non solo l'Università di Pavia la prima guerra di conquista sul suolo europeo dai tempi della seconda guerra mondiale e allora cosa possiamo dire da un punto di vista militare per entrare proprio dentro i fatti di queste ultime ore grazie grazie tanto dell'invito veramente mi onora mi fa molto piacere parlare con voi oggi pomeriggio premetto solo che ho molto apprezzato l'intervento del magnifico rettore perché bisogna ragionare in termini di comprensione delle ragioni del nemico c'è una guerra l'aggressione non può essere giustificata ma qui io sento intorno a me troppi che ignorano completamente quali possono essere state le motivazioni politiche strategiche geopolitiche di Putin nell'attaccare l'Ucraina vanno comprese credo che l'intervento del rettore ci ha chiarito parecchio le idee per quello che riguarda le operazioni militari che chiaramente è il campo in cui posso dire in qualche misura di essere un po' più ferrato purtroppo la premessa necessaria è che abbiamo informazioni come logico frammentarie controverse io ho dei contatti con persone anche in Ucraina in questo momento ma si tratta di rimettere insieme un mosaico con pochi elementi certi ancora quello che mi sento di poter dire è questo anzi facendo una premessa sull'offensiva lanciata da Putin che io per primo ritenevo improbabile purtroppo l'ho anche scritto perché pensavo che potesse perseguire i suoi scopi strategici senza correre il rischio così grave di un'offensiva il rischio per la Russia che è già diventata un paria internazionale che adesso dovrà comunque affrontare delle conseguenze di questo suo atto al di là di qualsiasi giudizio morale sull'opportunità di scatenare una guerra ma è un rischio che io pensavo non avrebbe corso lo ha corso e ha commesso degli errori non lui personalmente insomma l'apparato unitare russo in che senso a quanto sembra di capire erano convinti di poter ottenere un successo diciamo evidente se non decisivo sul campo nel giro di 36-48 ore che significa di poter almeno cacciare da Kiev Zelensky e gli uomini del suo governo indurli alla fuga come addirittura gli americani pensavano non vi ricordate hanno proposto a Zelensky di portarlo in salvo questo nel giorno 1 dell'offensivo forse 2 forse il venerdì così non è stato non solo ma pensavano probabilmente anche che l'esercito ucraino non fosse in grado di sostenere a lungo appunto l'offensiva russa invece gli ucraini stanno combattendo adesso stanno chiaramente riorganizzando il loro sforzo offensivo quindi le trattative di ieri i colloqui di ieri potrebbero anche essere soltanto un modo per riprendere fiato mentre stanno riorganizzando lo sforzo offensivo ma questo che cosa significa significa che adesso cominceranno ad investire come sembra stia già succedendo a Farkis in queste ore ad investire direttamente i centri abitati allora attenzione la dottrina d'impiego dell'esercito russo come quella dell'armata rossa prima del 91 prevede nel caso di investimento di centri abitati mani nemiche dove ci sia un'opposizione nemica l'uso di artiglieria pesante di di armi insomma in grado di distruggere proprio anche le strutture cittadine questo pone un grosso interrogativo perché attenzione i russi hanno impostato anche sul fronte interno la loro campagna in Ucraina non voglio dire come una liberazione da parte di una cricca di come dice di neonazisti e drogati come ha detto Putin questa è propaganda però certamente come l'intervento in un paese cugino se non fratello quindi questo pone un problema il loro atteggiamento nei primi giorni infatti è stato quello di puntate offensive senza l'uso probabilmente di armi pesanti adesso se iniziano a usare armi pesanti nei centri urbani questo comporterà certamente perdite civili molto sensibili e quindi un contraccolpo anche insomma sul loro modo di narrare questa guerra non potranno nascondere più a nessuno che si tratta di una guerra di conquista insomma nei confronti di un paese che non li vuole lo faranno non lo faranno lo vedremo nelle prossime ore sembra che lo stiamo facendo per la verità appunto a Kharkiv e anche a Kherson nel sud del paese che cosa voglio dire ancora quale può essere a questo punto l'evoluzione delle operazioni militari è probabile che l'esercito ucraino non riuscirà a sostenere questo rinnovato sforzo russo condotto appunto anche con l'ausilio di armi pesanti a questo punto l'opzione per gli ucraini è quella che io ritenevo fin dall'inizio sarebbe stata insomma il modo migliore per difendere il paese ovvero di passare a una resistenza di tipo irregolare a una guerra di guerriglia a quanto sembra la popolazione buona parte della popolazione è determinata a sostenere questo tipo di sforzo bellico non convenzionale diciamo passare appunto alla resistenza popolare questo non significa che sia possibile farlo un conto è essere determinati a farlo un conto è avere la possibilità di farlo almeno nel breve periodo poi nel lungo periodo possono succedere tante cose perché bisogna distribuire armi alla popolazione armi e munizioni ma anche cibo e acqua se bisogna farli combattere bisogna in qualche modo organizzare centri di resistenza coordinarli questo può darsi che stiano lo stiano facendo gli ufficiali ucraini che questo sia già in atto non ve lo so dire e io ritengo probabile che di fronte appunto a una rinnovata più violenta offensiva russa gli ordini siano proprio per i reparti regolari ancora in campo di disperdersi di evitare ancora scontri frontali insomma con gli invasori e di disperdersi tra la popolazione per aiutare la parte della popolazione che di fatto costituirà una milizia popolare a combatte questo però implica poi una guerra di lungo periodo insomma le guerre di guerriglia sono concepite per durare a lungo per dissanguare l'invasore sul lungo periodo sarà se così sarà sarà qualcosa di terribile che appunto in Europa veramente non ci aspettavamo di vedere nel ventunesimo secolo tra l'altro e qui veramente chiudo non voglio poi rubarvi troppo tempo tra l'altro è una guerriglia che se riesce a stabilirsi sul territorio ha ottime possibilità di prevalere su un lungo periodo perché non soltanto a quanto sembra gode dell'appoggio di buona parte della popolazione cosa essenziale ma alle spalle ha una frontiera di 850 chilometri chilometro più chilometro meno con paesi della Nato attraverso la quale potranno affluire per anni direi proprio sine die aiuti aiuti logistici materiali medicinali armi munizioni volontari come stanno già arrivando quindi una guerriglia che sarà impossibile isolare completamente dal mondo esterno questi russi dovrebbero ricordarsi appunto ricordarselo bene perché la guerriglia afghana negli anni 80 del secolo scorso alla fine ha trionfato contro l'armata rossa proprio perché aveva alle spalle una frontiera col Pakistan attraverso cui ricevere aiuti e un santuario come si dice alle proprie spalle in Pakistan dove ritirarsi in caso che le cose si mettessero male la guerriglia futura ucraina avrà le stesse godrà degli stessi vantaggi per di più anzi diciamo ancora più una situazione ancora più vantaggiosa perché alle spalle c'ha Polonia che è un paese che insomma non vi devo certo dire quanto sia ostile alla Russia quindi quanto sia disposto a aiutare un'eventuale resistenza ucraina quindi veramente vedo un futuro tragico insomma per il paese perché chiudo davvero come diceva appunto il magnifico rettore poco fa dopo un'invasione dopo quello che stiamo osservando ma sarà ben difficile arrivare al tavolo delle trattative cioè arrivare ieri c'erano ma insomma portare avanti le trattative concludere un accordo di pace che possa soddisfare sia Putin che evidentemente ha delle ambizioni molto vaste ma sia anche gli ucraini che fino a questo momento stanno tenendo il campo grazie grazie il professor Gastone Breccia e dalle questioni militari passiamo a quelle economiche in collegamento con noi Dino Pesole direttore del Master in Management Politico presso la Business School del Sole 24 Ore editorialista del Sole di tanti altri noti giornali nazionali buonasera Dino Pesole buonasera a voi grazie per l'invito allora una delle ultime notizie dice che appunto gli oligarchi russi hanno già perso circa 126 miliardi di dollari da questa guerra e da questa crisi come si mette da un punto di vista economico per l'Unione Europea per il nostro paese sì beh per una rapida sintesi degli effetti economici di questa gravissima crisi credo che sia il caso di partire e forse è utile farlo in questo nostro incontro da alcuni dati allora per quanto riguarda l'Italia che è uno dei paesi maggiormente esposti rispetto al tema dell'approvvigionamento del gas noi importiamo sostanzialmente circa 33 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia circa il 46% del nostro fabbisogno di gas deriva viene da lì e ne utilizziamo circa il 22,3% per l'elettricità tanto per avere delle linee di paragone la Francia sta al 24% la Germania è altrettanto dipendente dal gas russo come sappiamo circa il 49% il Regno Unito fa un po' storia a sé perché per circa il 50% il proprio fabbisogno lo soddisfa attraverso fonti nazionali e importa prevalentemente dalla Norvegia e dal Qatar gli effetti economici ovviamente sono sia di impatto immediato sia di medio periodo nel complesso dell'Unione Europea c'è da mettere nel conto una contrazione delle prospettive di ripresa dell'economia e questo non è banale sottolinearlo perché noi stavamo uscendo a fatica da una delle più gravi crisi economiche di sempre l'Italia in particolare nel 2020 ha avuto una contrazione del PIL di circa 9 punti e lo scorso anno proprio dati dell'Istat di poche ore fa c'è stato un notevolissimo rimbalzo dell'attività economica con il PIL che ha avuto un incremento del 6,6% quindi molto al di là anche delle più grosse prospettive proiettato sull'anno in corso questo voleva dire prima di questa grave escalation che l'Italia avrebbe potuto conseguire già quest'anno un tasso di sviluppo attorno al 3,8% e recuperare già la metà dell'anno il terreno perduto per effetto della pandemia e quindi tornare ai livelli pre-covid da questo punto di vista ovviamente i dati ora andranno sottoposti a una revisione il governo lo farà tra breve con il nuovo documento di economia e finanza e occorre sottolineare che l'Europa ma in particolare l'Italia già prima del inaspirsi di questa grave crisi doveva fare i conti con una serie di fattori che stavano interagendo in modo negativo sulle prospettive di crescita di quest'anno in particolare l'aumento del prezzo del gas e dell'energia che già si era verificato a partire dalla seconda metà dello scorso anno e anche di molte moltissime commodities quindi materie prime noi da questo punto di vista abbiamo un problema perché importiamo ad esempio sia dall'Ucraina che dalla Russia il grano e quindi l'impatto sui portafogli degli italiani sarà immediato e qui parliamo di effetti immediati accanto a questo e insieme a questo come effetto stiamo registrando in tutta Europa un aumento esponenziale dell'inflazione i dati dell'Istat di questa mattina ci dicono che in febbraio l'inflazione sia attestata al 5,7% rispetto al 4,8% di gennaio e faccio presente che tali livelli di inflazione non si vedevano nel nostro paese dal 1995 dobbiamo tornare ancora molto indietro con la memoria e ricordare quello che avvenne negli anni 70 per effetto delle due crisi petrolifere quando la nostra inflazione era molto molto alta 15-20% quindi abbiamo a che fare con uno scenario che era già critico prima dell'invasione russa in Ucraina e che ora deve fare i conti con il maggiore impatto che questi elementi stanno per avere come si fa a farvi fronte nell'immediato allora noi dal punto di vista dell'appropigionamento energetico non abbiamo tanto un problema nell'immediato le previsioni degli analisti ci dicono che andando verso la stagione primaverile estiva il fabbisogno complessivo di energia andrà lentamente a ridursi abbiamo però un problema di cominciare a immaginare quello che accadrà a partire dal prossimo autunno inverno e qui c'è come sapete un dibattito in corso all'interno del governo anche in previsione del pieno utilizzo dei fondi del piano nazionale di presa e resilienza di attivare con maggiore rapidità a questo punto delle fonti alternative che ci consentano quantomeno di affrontare il prossimo inverno in condizioni non critiche e qui siamo sostanzialmente alle possibilità cioè adesso il governo sta ragionando se come riaprire e riattivare le centrali a carbone è una delle ipotesi ovviamente andrebbe potenziato il ricorso alle energie rinnovabili si tratta però come da tutto evidente di strategie di medio periodo nell'immediato abbiamo un problema e lo stiamo vedendo nell'inflazione l'inflazione è come sapete una tassa occulta che ha degli effetti tengo a precisare delle ultime cose che voglio dirvi che la revisione al ribasso delle stime per quanto riguarda la crescita in Europa e di conseguenza anche in Italia non avrà solo conseguenze come dire dal punto di vista dell'impatto sull'occupazione e su tutte le altre variabili dell'economia reale lo avrà anche per quanto riguarda i conti pubblici perché una minore crescita equivale a un maggior deficit e il governo molto probabilmente sarà costretto nuovamente a ricorrere all'arma del deficit per potenziare nuovamente gli interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese per far fronte all'aumento esponenziale dei prezzi che stiamo verificando delle materie prime e della benzina ad esempio e dell'energia in senso lato ha degli effetti ovviamente anche sul debito pubblico e come sapete il nostro problema numero uno abbiamo una discussione infine in Europa che prima dell'esplodere di questa grave crisi era solo all'inizio cioè quella di provare a immaginare quali potessero essere i nuovi parametri di bilancio che dal 2023 dovrebbero prendere il posto del vecchio patto di stabilità al momento mi sembra di capire che la questione è quantomeno congelata perché non si può escludere e il commissario Gentiloni lo ha detto esplicitamente in un'intervista ieri non si può escludere che a fronte dell'inaspirsi di questa crisi l'Europa si debba nuovamente fermare interrogare e non è escluso che ci sia un ulteriore prolungamento della general escape clause che è la causa che è stata attivata di sospensione del patto di stabilità quindi come vedete gli effetti economici ci sono già ce ne saranno altri infine voglio sottolineare concludendo che c'è il tema di cui si sta discutendo in questi giorni dell'esclusione già parzialmente avvenuta ma ancora non finalizzata del tutto della Russia dal sistema interbancario di pagamento SWIFT che è il sistema diciamo ordinario è il canale su cui avvengono le transazioni per ora l'idea è quella appunto di escludere da queste sanzioni il tema appunto dei finanziamenti delle forniture di gas ma se si arrivasse anche a questo è evidente che l'impatto sarebbe ancora maggiore oltretutto e infine voglio ricordare a tutti che certamente le sanzioni in questa fase non possono che essere l'arma che va utilizzata fino in fondo così come avvenne per i blocchi navali che vennero decisi dal Regno Unito nei confronti della Germania nel 1915 e poco prima della seconda guerra mondiale ma il tema fondamentale è che le sanzioni poi alla fine rischiano di avere delle conseguenze anche per i paesi che le impongono quindi l'aspettativa l'augurio che noi tutti dobbiamo porci anche rispetto alle conseguenze economiche è che questa guerra abbia come dire un esito di breve periodo perché ovviamente più si prolungherà nel tempo questa situazione più ci saranno effetti e allora bisognerà intervenire ogni paese lo farà come potrà e l'Europa a questo punto non potrà che agire con una voce sola devo dire che da questo punto di vista finora la risposta è stata abbastanza forte e concentrata oltre che concertata bene grazie grazie a voi per questa opportunità grazie grazie a Dino Peso del Sole 24 Ore per averci dato anche una fotografia del momento economico che sta vivendo l'Unione Europea e dall'aspetto economici passiamo invece alle ultime dichiarazioni che la Chiesa nel mondo ha diciamo sviluppato il Papa l'abbiamo ascoltato negli ultimi giorni ma non solo la Chiesa Ortodossa in questo momento svolge un ruolo fondamentale nella Regione diamo subito la parola quindi al Rettore della Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola Padre Vincenzo D'Adamo grazie infatti dobbiamo parlare di Chiese pur avendo a che fare con Chiese Cristiane di Cristiani che hanno una lunga storia di vita religiosa fondata sul Vangelo nella realtà russa nel suo complesso e nello specifico nell'Ucraina dobbiamo parlare di Chiese tenendo conto della particolarità della tradizione orientale della tradizione ortodossa una Chiesa ovvero Chiese che sono fortemente legate al loro territorio all'etnie fortemente intrise di un senso di appartenenza e di identità formidabile Chiese che si sono stagliate su esperienze particolari secondo la tradizione orientale risalente a Bisanzio Costantinopoli Kiev e poi in modo particolare oggi Mosca bisogna considerare anche come sottolineavo poco fa il magnifico rettore che ci sono degli aspetti propri della storia e della cultura di questa immensa area che è l'area russa e la realtà specificatamente ucraina un animo essenzialmente religioso profondamente religioso e quindi questo fattore religioso si iscrive all'interno di elementi di scelte storiche di vissuto e anche all'interno di questo conflitto io provo brevemente in maniera un po' superficiale mi scuso a descrivere qual è attualmente la costellazione religiosa che intercorre tra l'Ucraina e la Russia in questo momento innanzitutto abbiamo come riferimento la chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca e Kirill I una figura molto eminente molto importante ha assunto una posizione che oserei dire più che prudente rispetto a questo conflitto anzi direi defilata rispetto a questo conflitto anche se è intervenuto il 24 febbraio scorso invitando tutte le parti in conflitto cito a fare il possibile per evitare vittime civili ma espressamente non ha preso una posizione contro questo conflitto si è limitato ad affermare appunto la salvaguardia delle vittime civili ma poi ha avuto in questo suo discorso una frase che è particolarmente significativa quando ha detto i popoli russo e ucraino hanno una storia comune secolare ed è vero perché il battesimo della russia il battesimo dell'oriente è avvenuto proprio in ucraina nel 988 e da lì si è sviluppato c'è una storia secolare in comune che risale al battesimo della russia da parte del principe vladimir però questa affermazione mi pare riecheggi un intento anche motivazionale politico proprio di un altro vladimir che è putin e allora questa contiguità o questa problematicità della chiesa ortodossa russa è ahimè uno dei fattori non da oggi di tensione con la chiesa ortodossa ucraina perché c'è stata una scissione proprio all'interno di questa chiesa e la scissione risale al 2014 quando la russia annessò la crimea a partire da quella data con un concilio il concilio cosiddetto di riconciliazione ma che non è stato di riconciliazione ma di netta separazione la chiesa ortodossa ucraina ha affermato la propria autocefalia quindi la propria indipendenza è stata mosca ed è stata riconosciuta dal patriarcato di costantinopoli in tal modo si è legittimata questa separazione ma cosa è avvenuto all'interno dell'ucraina è avvenuto che la comunità ortodossa che era legata a mosca nella figura di onofri è rimasta legata a mosca pur essendo un piccolo gruppo all'interno dell'ucraina c'è ancora una chiesa ortodossa che è legata a mosca e che persegue anche una linea sociopolitica di non integrazione con l'europa e quindi è perfettamente allineata con l'orientamento della chiesa russa abbiamo poi all'interno dell'ucraina altre presenze cristiane abbiamo la presenza cattolica c'è un ramo dell'esperienza cattolica greco-cattolica di rito bizantino ma di lingua ucrainica ed è una forza importante dal punto di vista numerico e della presenza nel paese ma non finisce qui ci sono poi altre confessioni cristiane che sono presenti all'interno di questo paese c'è la chiesa greco-cattolica armena di rito armeno e poi ancora la chiesa greco-cattolica rutena una piccola regione 450.000 fedeli però è una forza di disgregazione all'interno del panorama delle chiese cristiane poi c'è la chiesa cattolica latina ed infine ci sono le confessioni protestanti in modo particolare quella evangelica battista e del settimo giorno e infine c'è una piccola presenza sud nell'area della Crimea una presenza musulmana intorno al 2-3% della popolazione cosa succede quindi in questo insieme oggi rispetto al conflitto che salvo la posizione particolare che ho sottolineato di Chi era il primo tutte le altre chiese si sono schierate contro in modo particolare la chiesa greco cattolica ucraina il loro riferimento epifane ha avuto delle espressioni molto forti molto polemiche nei confronti della persona stessa di Putin e di tutta la realtà russa e anche nei confronti della chiesa guidata da Kirill primo il santo padre è intervenuto per quanto riguarda la compagine cattolica latina è intervenuto compiendo anche un gesto molto particolare quello di recarsi personalmente venerdiscorso presso il l'ambasciata russa presso la santa sede evidenziando però un problema abbastanza serio che è bene non trascurare che così facendo pur essendo un gesto di grande esposizione personale come Papa ha messo in secondo piano se non in terzo il ruolo anche di mediazione politica di intervento diplomatico della segreteria di Stato tanto che Parolin continua con saggezza a sottolineare che ci sono spazi di mediazione di intesa di rapporto però una presa di posizione netta anche da parte della segreteria di Stato non mi pare di averla percepita probabilmente c'è un equilibrio che la segreteria ritiene di dover perseguire in questo momento che è tutto particolare a conclusione vorrei sottolineare un aspetto che non è assolutamente polemico ma per evidenziare un elemento di grande difficoltà da parte nostra anche da parte mia di intendere la logica con la quale la Chiesa russa il patriarcato di Mosca si pone all'interno di questo conflitto una difficoltà che cerco di sopperire con una riflessione di tipo storica sappiamo appunto l'identificazione della Chiesa con il Paese con lo Stato tu poco fa Rettore Magnifico sottolineavi la figura dello Zarre come capo della Chiesa e permane in un certo senso questo questo senso di integrazione tra la realtà religiosa e quella propria territoriale e gli interessi geopolitici il metropolita e concludo con questa citazione il metropolita Ilarion che è una figura molto autorevole nella Chiesa ortodossa russa e il cosiddetto ministro degli esseri della Chiesa ortodossa russa all'inizio di febbraio ha ricevuto un importante riconoscimento dalle mani di Putin è stato onorato dell'ordine Nevsky durante quell'incontro ha avuto delle espressioni nel suo comunicato particolarmente interessanti e significative ha detto a un certo punto parlando del suo ruolo negli ultimi anni ci sentiamo sempre di più una sorta di dipartimento di difesa perché dobbiamo difendere le sacre frontiere della Chiesa sacre frontiere della Chiesa e poi aggiunto la Chiesa russa si è formata nel corso di più di dieci secoli e abbiamo ereditata entro e l'abbiamo ereditata entro i confini in cui è stata creata non l'abbiamo creata noi e non possiamo distruggerla per cui continueremo a resistere alle sfide esterne che dobbiamo affrontare oggi e questo i primi giorni di febbraio allo stesso tempo dobbiamo dire che questa disgregazione che corrisponde a una matrice storica questa autonomia di tante Chiese legate a lingue etnie e luoghi geografici la fragilità della Chiesa cattolica l'incapacità di una mediazione del patriarcato di Costantinopoli rendono questa situazione ancora più complessa e difficile da dirimere anche col contributo delle Chiese dalle quali ci aspetteremmo non solo preghiere e liturgie per la pace ma un impegno reale ed effettivo a perseguire un intervento un contributo che incida sulla cultura e sulla mentalità a partire dalla quale si determinano quelle linee di forze storiche che poi possono indurre ahimè anche al conflitto come quello contemporaneo grazie 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 a padre Vincenzo D'Adamo e allora entriamo invece nella guerra quella nei media quella fatta dai media con una sollecitazione che ci arriva direttamente dal nostro studente che ringrazio per la domanda Alessio Matteucci quanto è importante la comunicazione in questa situazione abbiamo parlato della torre della dv di Kiev abbattute di tutta una serie di attacchi hacker utilizzati da Anonymous proprio nelle tv russe in questo caso per cercare di creare confusione quanto è importante la comunicazione diamo la parola al direttore dell'alta scuola di comunicazione media digitali di Utilma Sapienza il professor Mario Morcellini quello che si dice un rettore operaio si sarebbe detto allora per fortuna dieci minuti e quindi non potrò dare una risposta tecnica se non culturale allo studente che però ringrazio ringrazio in generale gli studenti perché trovo straordinario che vedano nei loro docenti la prima interfaccia a cui chiedere una risposta domani la Sapienza darà la sua c'è un'interessante manifestazione organizzata dall'elettrice e entro una decina di giorni anche la fondazione Sapienza dovrebbe fare un lavoro tipo quello che stiamo avviando oggi anche se in tempi più di annuncio di temi perché è difficile in dieci minuti dire cose irrevocabili o comunque che lasciano il segno e questo è il primo elemento di soddisfazione non è la prima volta che ci accorgiamo che gli studenti danno ampia soddisfazione a riconoscere in questo patto di scambio reciproco uno degli elementi di valore e di intensità di questa università allora ripeto in dieci minuti si possono fissare un po' di temi ho molto apprezzato gli interventi finora parto da quello del rettore che ci ha parlato di un aspetto che devo dire è anche abbastanza presente al dibattito culturale e dico anche che nella comunicazione c'è stata un po' più di informazione in profondità mai adeguata perché la comunicazione arriva sempre troppo leggera rispetto a temi così complessi ma non è stato trascurato l'aspetto profondo sia della paura della Russia della propria insicurezza perché lì davvero il problema è non la paura degli altri ma il rimorso la propria paura e secondo anche la complessità del mondo russo perché davvero noi questo lo cogliamo bene solo quando ci sono conflitti la stessa attenzione per quel impressionante quadrante di mondo lungo e quindi anche persino con tanti orari di vita sembra davvero favorire questo aspetto del pluralismo allora 33 anni fa Vittorio Strada modestamente scrive un articolo che sembra letteralmente scritto per aiutarci a capire le radici storiche culturali sia dell'aspetto della paura dell'insicurezza quasi costitutiva di un mondo che non può riconoscersi con un'identità facile sia anche della crisi di identità e leggo solo 5 righe di un saggio che ho trovato in rete impressionante per l'acutezza l'uomo è morto 4 anni fa l'articolo è di 33 anni fa quindi un terzo di secolo non per nulla il problema dell'identità si è posto e si pone in Russia in modo più intenso e drammatico in ogni altra comunità nazionale qui anche le dimensioni aiutano ovviamente ma se lo dice lui la comparazione è autorevole e la soluzione di questo problema non è mai univoca ma si orienta verso una pluri identità questo è già un passo avanti una compresenza di russie diverse ora non mi soffermo su questo tema perché io penso che oggi dobbiamo elencare temi rilevanti questo però è un tema che ne evoca tanti il dibattito lungo tra su orientalismo e occidentalismo sempre ispirato all'idea della radicalizzazione delle differenze mentre noi l'Europa e la Russia hanno molti più elementi in comune dal punto di vista storico-culturale urbanistico architettonico nella musica nella letteratura non ne parliamo nella scienza medica che è stata e nella cultura universitaria per cui chiunque compie un'operazione di separazione della Russia dall'Europa Putin compreso compie un'operazione antistorica nel senso che in ogni caso finisce per legittimare un isolazionismo che non è solo quello raccontato dalle armi ma quasi sul modello culturale sul modello di sviluppo del paese oltre il dilemma orientalismo occidentalismo importante c'è anche quello modernità tradizione e qui le cose che tu hai detto sulla religione e l'importanza di ammettere che in Russia ogni accenno di innovazione e di modalità è sempre intriso di forti elementi di tradizionalismo tanto più da parte di questo leader che evidentemente si ritiene un leader carismatico ma che è in realtà un leader molto solitario per capirlo bene oltre bisognerebbe usare anche gli strumenti della psicologia politica che non è corretto da parte mia perché non ho gli strumenti adeguati ma un romanzo come quello di un grande sudamericano García Márquez sui cent'anni di solitudine e sul ruolo della politica in quell'epoca può aiutarci a capire quindi sulle radici culturali diciamo la verità noi abbiamo bisogno di difendere il fatto che queste non possano essere espugnate da una guerra anche se la guerra non potrà che lasciare tracce dal punto di vista del modello comunicativo questo è stato pochissimo studiato la prosa perché non c'ha un bagno prosodico lui la prosa e la comunicazione perché è rarissima la comunicazione è più muscolare e in qualche misura anche di tipo ieratico ipersemplificato comunicazioni scarne non vedi una donna neanche a pagare la oro nel goto non vedi una donna e questo la dice lunga perché nella postura delle donne rispetto alla guerra c'è una saggezza più profonda di quella che i maschi sanno mettere bisogna ammetterlo altrimenti non si spiegherebbe questa clamorosa assenza di un mezzo paese e c'è certamente qualche aspetto di purgere messaggi gladiatori che sembra risospingere la Russia indietro anche in qualche misura connaturandosi con gli aspetti peggiori dell'impero sovietico che già di per sé ce n'aveva del suo ma lui non li migliora certamente da questo punto di vista noi dobbiamo prendere due soli temi due temi principali di analisi mi colpisce molto anche l'affinità con le cose che ha detto padre Vincenzo intanto i valori perché se non si mettono al centro i valori e il cambiamento dei valori è difficile cogliere le reazioni così unanime e non del tutto previste e prevedibili di tutta l'Europa del nostro paese e persino dei parlamenti pensate al nostro Parlamento frantumato in mille rivoli che abbiamo visto qualcosa durante le elezioni su questo ha dato la prova spettacolare di unità opposizione compresa non era mai successo in questi anni dal punto di vista delle reazioni quello che vediamo nei media sulle oceaniche manifestazioni quella dei tedeschi alla porta di Brandenburgo è un episodio che rimarrà nella storia non vediamo niente di simile e Russia ma già il fatto che vediamo manifestazioni seppur non di massa attesta un coraggio perché lì signori scendere in piazza in quel paese significa rischiare la vita e comunque compromettere il futuro da questo punto di vista devo dire per i valori democratici questa è stata una vicenda straordinaria nel senso che noi non siamo abituati a far pubblicità ai valori democratici è una follia delle culture contemporanee pensare che l'abbiamo per scontata ma nei momenti di crisi ti accorgi quanto ti fanno percepire che stai dalla parte giusta senza però ostentarlo le vittime principali di questa vicenda saranno ovviamente lo spreco di vite umane lo sappiamo è la parola di Erli De Luca anche se in un altro contesto ma sono soprattutto i giovani perché chi pagherà l'isolazionismo che comunque si collegherà a questa vicenda perché in ogni caso la guerra è difficile rimarginarla velocemente quale che sia la capacità poi di trovare accordi non mi sembra che all'orizzonte ci sia una certezza neanche una elevata probabilità ma i giovani saranno quelli che pagheranno di più questo scotto come sempre perché sono quelli per definizione più aperti più interessati al confronto con altre culture con altri paesi lo vediamo da tempo l'abbiamo visto persino durante il covid perché il covid è stata un'altra dimensione che ci ha fatto apparire quanto possiamo migliorare anche ognuno di noi dal punto di vista culturale e comunicativo non sapete quanto nei 20 mesi del covid gli italiani e non solo loro hanno dato una migliore prova di ritorno alla comunicazione immediata rispetto a quella un po' avventurista del mondo digitale i giovani pagheranno caro perché è chiaro che significherà erigere più barriere antistoriche ma da questo punto di vista che una università si chini a pensare a questi temi riflettendo sulle origini di questa crisi perché senza quella non si capisce nulla né della vicenda recente né della guerra e però avendo un gesto di attenzione nei confronti di giovani mi sembra che sia un segno di speranza anche per il futuro grazie a tutti voi grazie al professor Mario Morcellini e adesso parliamo dei risvolti giuridici col professor Mario Carta perché abbiamo proprio una sollecitazione che ci arriva ancora una volta dai nostri studenti Rossella Matera che scrive quali conseguenze sull'attuale conflitto comporterebbe l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea con procedura speciale nel breve termine questa è una domanda che subito giriamo al professor Mario Carta che è un esperto di questi temi grazie dottor Cerrone grazie agli organizzatori di questo interessantissimo incontro grazie al magnifico rettore e ai relatori che hanno già affrontato tantissime delle questioni che sono sul tappeto certo la domanda è molto stimolante e coglie uno dei problemi aperti perché noi sappiamo che l'Unione Europea ha iniziato da tempo a guardare ad oriente innanzitutto una prima fase di processo di allargamento che si è realizzato e concluso nel 2004 e nel 2007 con i paesi dell'Europa centro-orientale poi Bulgaria e Polonia poi l'area dei Balcani con i quali sono in piedi dei negoziati ormai aperti da tempo e anche i paesi diciamo le ex repubbliche sovietiche che sono ricompresi in quello che è il partenariato orientale diciamo che alla domanda specifica occorre rispondere in maniera chiara senza alimentare facili illusioni come forse è stato fatto troppo facilmente in passato in questa vicenda perché rimanendo un dato puramente tecnico la domanda di adesione in questo caso dell'Ucraina dovrebbe essere valutata dal Consiglio europeo dal Consiglio dal Parlamento e dalla Commissione con una procedura diciamo lunghissima e questa procedura si concluderebbe solo con il riconoscimento dello status di paese candidato all'adesione quindi saremmo in una prima fase alla quale seguirebbe realisticamente un periodo non inferiore a dieci anni di negoziati che si svolgono appunto tra l'Unione europea e il paese candidato che sottopone sottoporrebbe in questo caso all'Ucraina ad una verifica uno screening si chiama sulla chi comunotera quindi una valutazione in base ai criteri di Copenaghen che dovrebbero monitorare lo stato della legislazione di quel paese sotto il profilo della democrazia dello stato di diritto della lotta alla corruzione quindi quei valori che sono stati giustamente evocati dal professor Morcellini quindi una procedura diciamo problematica lunga che diciamo non è realisticamente ipotizzabile infatti le dichiarazioni della Presidente della Commissione vanno in questo senso proprio nel non ritenere diciamo praticabile una prospettiva di questo genere a breve termine ma quali potrebbero essere le conseguenze dell'ingresso della diciamo dell'Ucraina nell'Unione Europea allora a mio avviso il punto più delicato consiste in una un elemento che forse viene sottovalutato e che è l'inserimento nel trattato di Lisbona di una clausola di assistenza reciproca di assistenza militare reciproca che è prevista dall'articolo 42 paragrafo 7 del trattato sull'Unione Europea che quindi garantirebbe in caso di attacco armato sul territorio di uno dei paesi membri dell'Unione Europea quindi non Nato una diciamo così obbligo di intervento a favore dei paesi che sono membri dell'Unione Europea stessa quindi diciamo che l'aspetto problematico è legato al fatto che ci sarebbe una assistenza reciproca dal punto di vista militare che coinvolgerebbe non solo i paesi della Nato l'Ucraina lo sappiamo non fa parte ma se facesse parte dell'Unione Europea invece ricorrerebbe questo tipo di clausola e quindi diciamo che scatterebbe un meccanismo che coinvolgerebbe anche il nostro paese perché noi siamo un paese membro dell'Unione Europea è una prospettiva che è stata in qualche maniera evocata nei confronti della Finlandia e della Svezia perché la Russia in qualche modo ha diciamo così invitato questi paesi a non andare avanti nel processo di adesione alla Nato e questi sono due paesi che già fanno parte dell'Unione Europea in realtà diciamo così che questa clausola consente anche dei meccanismi più elastici perché tiene in considerazione quelle che sono le specificità degli stati membri per quanto riguarda la loro politica di difesa nazionale cosa si intende con questo si intende ad esempio l'accettazione e il riconoscimento dello status di paesi neutrali che pure esistono all'interno dell'Unione Europea quindi ad esempio appunto la stessa Finlandia e la Svezia sono considerati paesi neutrali e quindi questa clausola in realtà non opererebbe necessariamente nei confronti di questi paesi che rimarrebbero fuori dal meccanismo di assistenza obbligatorio in caso di attacco armato quindi questa elasticità che consente anche poi tra l'altro la diciamo così la partecipazione di questi stati alla stessa alla stessa Nato in paesi dell'Unione Europea che fanno parte della Nato diciamo godono di questa loro di questo loro status di questa specificità che gli viene riconosciuta nonostante appunto la presenza di questo tipo di clausola quindi stiamo parlando di una prospettiva di difficile realizzazione però mi sembra che da questa crisi siano emersi molti elementi di novità è una prima volta per tante cose nell'arco di questa crisi è la prima volta della diciamo così come si diceva prima che uno stato aggressore prospetta l'utilizzo dell'arma nucleare è la prima volta la corte internazionale di giustizia era intervenuta sulla liceità dell'uso delle armi ma in una chiave chiaramente difensiva non diciamo come strumento di di offesa quindi è la prima volta che l'Unione Europea utilizza e ricorre a degli strumenti così incisivi dal punto di vista delle sanzioni economiche considerate che queste sanzioni che oggi sono state messe in atto esistono dal 2014 quindi è lo stesso regolamento è la stessa decisione e la differenza è che sono state implementate rese più efficaci congelamento dei beni blocco soprattutto delle operazioni della Banca Centrale russa come è stato giustamente ricordato che impediscono transazioni e che hanno fatto schizzare dal 6 al 20% il tasso di interesse lunedì praticato dalla Banca Centrale russa è la prima volta che l'Unione Europea ricorre allo European Peace Facility che è lo strumento attraverso il quale in buona sostanza stanzia dei fondi per trasferire delle armi a un paese non membro dell'Unione Europea è un passo importante che però anche qui la realtà è sempre più complessa di quella che ce la rappresentiamo è anche un modo per eludere quelli che sono i nodi della politica di difesa comune perché in realtà ad oggi non c'è una strategia comune dell'Unione Europea sul punto gli unici strumenti che sono stati pienamente realizzati sono stati realizzati al di fuori dell'architettura dei trattati mi riferisco in particolare all'Eurocorpo che è una prima diciamo base di un esercito europeo però che non si avvale della cosiddetta PESCO che è la cooperazione strutturata permanente prevista in ambito militare quindi è una risposta che lascia trasparire una difficoltà di andare avanti in quella che è la strada principale cioè la creazione di una difesa comune quindi di un esercito europeo siamo molto lontani da questo tipo di prospettiva e vorrei diciamo così dire un'altra prima volta importante che è quella legata al fatto alla crisi umanitaria alla crisi dei rifugiati perché è la prima volta che l'Unione Europea questo è un dato importantissimo a mio avviso la protezione temporanea prevista dalla direttiva del 2001 è una protezione temporanea che consente di superare le procedure per il riconoscimento dello status di asilo o di rifugiato proprio prevista nel caso di massiccio a flusso di rifugiati e del 2001 pensate è stata introdotta per la crisi nei Balcani non è stata mai attivata neanche in occasione della crisi siriana del 2015 e questo consentirà a coloro che stanno viaggiando sono già arrivati in Polonia in Ungheria 400.000 rifugiati stiamo parlando consentirà loro di godere di un permesso di soggiorno di uno o due anni e quindi rimanere in quel paese avendo una protezione di natura internazionale protezione temporanea che non esclude il riconoscimento dello status di rifugiato quindi di asilo è un strumento in più mai attivato e il problema che sorge è un problema diciamo non non secondario è legato al fatto che la protezione temporanea in ogni caso non consente la circolazione dei migranti dal paese di arrivo agli altri stati membri dell'Unione Europea quindi probabilmente sarà anche l'occasione per rivedere il sistema di Dublino e la regola del primo ingresso perché 400.000 diciamo rifugiati nella Polonia e in Ungheria forse porteranno a ripensare quei paesi che si sono diciamo mostrati non proprio favorevoli alla diciamo alla ricollocazione a rivedere questa regola che finora ha esposto soprattutto i paesi dell'Europa meridionale l'Italia in particolare a pesanti oneri per quanto riguarda la appunto gestione dei flussi migratori quindi il ruolo dell'Unione Europea che in questo caso come in altre occasioni trae forse una spinta e anche l'infafità vitale dalle sfide che sono poste dalle crisi è un processo che si è diciamo sempre mostrato capace di quasi sempre mostrato capace di reagire di fronte a sfide impegnative e forse volendo vedere gli aspetti positivi che per la verità sono pochi in questa crisi al di là di quelli che abbiamo citato questa potrebbe essere dal punto di vista dell'Unione Europea potrebbe essere degli spunti da sviluppare grazie 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 al professor Mario Carta per averci ricordato tutte queste prime volte da un punto di vista giuridico che l'Unione Europea si trova oggi che sta registrando sostanzialmente e passiamo anche e soprattutto all'aspetto geopolitico di questa guerra con le analisi le riflessioni che in queste ultime ore si stanno accavallando ma che come dire dobbiamo un po' fare ordine quindi c'è il professor Gabriele Natalizia che qui ci dirà cosa sta accadendo dal punto di vista geopolitico il professor Natalizia è anche coordinatore di geopolitica punto info che in questi giorni sta lavorando sodo proprio per raccontarci cosa accade prego grazie al dottor Sciarrone grazie a Unitelma per l'invito in particolare al rettore Biaggini cercherò di fare il possibile perché il compito che mi è stato affidato è piuttosto arduo anzitutto prima riflessione quali sono le cause della crisi perché la crisi oggi poi cercherò di andare a tracciare degli scenari e poi infine andrò a identificare delle possibili conseguenze indirette non volute dalla Federazione russa dopo aver lanciato questa operazione in molti si sono domandati perché proprio ora perché non due anni fa perché non aspettare in termini di relazione internazionale ragioniamo spesso con l'idea delle finestre di opportunità che si aprono perché la Federazione russa avrebbe visto in questa fase una finestra di opportunità da poter cogliere anzitutto un presidente americano ai minimi storici del consenso e perciò un presidente americano debole un presidente americano ai minimi storici del consenso in un anno elettorale con le elezioni di midterm le elezioni di midterm storicamente danno il là oppure arrestano mettono la mordacchia all'inquilino della Casa Bianca ad oggi con una crisi pandemica ancora in corso quantomeno con le conseguenze negative da un punto di vista economico della crisi pandemica sarebbe stato difficile e sarebbe difficile spiegare da parte del Partito Democratico così come di Joe Biden il perché di un intervento importante di livello maggiore in un contesto che non viene più considerato centrale dalla prospettiva americana e che in molti dicono molti americani avrebbero anche difficoltà a identificare su una carta geografica il famoso perché morire per il Donbass in secondo luogo sempre dalla prospettiva americana con l'amministrazione Biden in linea di continuità con l'amministrazione Trump ma anche con quella con quella di Obama il diciamo che il perno strategico intorno a cui viene fatta ruotare l'approccio americano agli affari globali si è confermato quello del pivot to Asia ma ancora più che le amministrazioni precedenti l'amministrazione Biden sembra tra virgolette ossessionata dal problema Cina addirittura è arrivata per la prima volta nella storia americana a dedicare una anzi a definire una dottrina strategica locale nella sua Indo-Pacific Strategy un documento strategico pubblicato venti giorni fa poi alcuni problemi che affliggono il continente europeo abbiamo già citato e chi mi ha preceduto ha citato comunque il deficit europeo in tema di coerenza in politica estera così come l'assenza di un apparato di difesa europeo c'è anche un vuoto politico dopo l'uscita di scena di Angela Merkel ancora Schulz se guardiamo la Germania non ha avuto il tempo per crearsi una nuova legittimità una nuova immagine di leader europeo è tutto da provare il fatto che sia in grado di farlo altri leader europei hanno i loro problemi interni pensiamo a Macron il problema tra virgolette della rielezione quest'anno che lo ha portato peraltro a fare un discorso di insediamento della Francia al semestre europeo in cui paradossalmente invece strizzava l'occhio addirittura alla Russia di Putin Mario Draghi diciamo che è inciampato in qualche modo la sua la sua immagine è stata un po' incrinata da come è andata la corsa al Quirinale e comunque per due mesi si è impantanato in quel tipo di corsa perciò anche quella leadership fortissima soprattutto per quello che riguarda le questioni economiche è un po' scemata perciò appunto nel continente europeo in particolare in Unione Europea non c'è un leader capace di trainare di dettare di tracciare la strada anche per gli altri poi una serie di errori che i leader occidentali hanno compiuto hanno compiuto rispetto alla evoluzione della crisi dall'intervista di Biden in cui il presidente americano ha detto che in caso di un'azione mirata da parte russa gli americani non sarebbero non solo intervenuti ma probabilmente non avrebbero preso in considerazione neanche sanzioni di un certo rilievo questo naturalmente ha costruito una specie di luce verde per Vladimir Putin o quantomeno l'ha confortato in alcune sue scelte o all'infelicissima battuta di Olaf Scholz quando è andato in visita a Mosca 20 giorni fa sempre in cui Olaf Scholz sostanzialmente ha messo sul piatto il boccone che Putin voleva mangiare ossia ha detto ma l'adesione dell'Ucraina alla Nato non è all'ordine del giorno e diciamo che se quello era l'obiettivo di Vladimir Putin l'obiettivo raggiunto si è aggiunto qualche altro obiettivo in più o comunque si è alzato il tiro infine sappiamo tutti che se nella sua new generation warfare cioè il nuovo modo di fare la guerra la federazione russa ha vari strumenti uno degli strumenti più importanti è quello della leva energetica nei confronti dell'Occidente in particolare nei confronti dei paesi europei e quale momento migliore se non l'inverno nel momento in cui i consumi energetici sono maggiori gli scenari sappiamo quali sono più o meno le evoluzioni in corso c'è una trattativa ma allo stesso tempo colonne militari russe che si avvicinano nella capitale Kiev gli scenari potrebbero essere sostanzialmente tre sono tutti e tre ugualmente aperti e mi guardo bene al fare previsione uno è uno scenario che potremmo chiamare Giorgiano ossia così come nel 2008 la Russia intervenne per quello che diceva prima sia il professore Biaggini ma anche il professor Morcellini sulla l'idea sostanzialmente del Ruschimir quante volte ne abbiamo parlato la Federazione Russa intervenne nel 2008 per preservare i diritti degli osseti del sud russofoni che venivano in qualche modo sfidati da Tbilisi che voleva ristabilire il controllo su quelle repubbliche separatiste si interviene a favore degli osseti grazie anche a un presidente Giorgiano che era molto convinto del sostegno americano in caso di attacco questo sostegno americano non avviene i carri armati russi arrivano fino a 30 km da Tbilisi ma poi decidono di tornare indietro perché l'obiettivo era raggiunto da quel momento in poi nessun governo Giorgiano avrebbe più spinto l'acceleratore per l'adesione alla Nato peraltro Saakashvili pochi anni dopo nel 2012 perde le elezioni e il nuovo partito che ancora oggi ha il governo Georgian Dream sebbene non si possa chiamare un partito filo russo comunque un partito che ha riallacciato relazioni con Mosca a differenza di quanto era stato fatto prima potrebbe succedere lo stesso con l'Ucraina a un certo punto trattative sappiamo quelle che sono state richieste di Putin si potrebbe arrivare a un riconoscimento di quello che era una situazione di fatto anche il riconoscimento degli Ure ossia la perdita da parte ucraina della Crimea ma allo stesso modo l'Ucraina finirebbe per essere finlandizzata come spesso si dice in questi giorni per quale ragione perché l'Ucraina sa che l'Occidente non non interviene o almeno non interviene nel modo in cui uno Stato sotto attacco richiederebbe ossia con un sostegno militare famosa l'abbattuto ormai di Zelensky che dichiara ci avete lasciato soli poi nel corso delle giornate qualcosa in più effettivamente è stato fatto ma gli Ucraini ad oggi con 60 chilometri di blindati russi che marciano su Kiev hanno più bisogno di armi che non di altro tipo di aiuti c'è poco da fare altra opzione è quella del regime change ossia occupare Kiev decapitare la testa speriamo solo metaforicamente al governo al governo ucraino e imporre un governo più favorevole favorevole a Russia oppure l'opzione che potremmo definire imperiale ossia avanzare fino al flume di Niepr addirittura annettere una parte più importante più consistente un terzo dell'Ucraina quella est del fiume alla federazione russa e creare uno stato cuscinetto più o meno con capitale Leopoli questa sarebbe un'opzione veramente impattante arrivo alle conclusioni quali sono state le conseguenze indirette che però fanno male nel medio termine alla federazione russa anzitutto sapete che questo era l'anno e qui col collega Cartani abbiamo scritto un volume insieme l'anno dell'uscita del concetto strategico nato a giugno beh se c'è un dibattito sul perché stare insieme ancora tra gli allati nato beh la Russia ha dato la risposta c'è ancora un nemico e le alleanze stanno insieme quando c'è un nemico comune si era persa l'idea dell'esistenza del nemico il nemico invece si riappalesato e siamo arrivati da oggi tutti cominciano a pensare di rispendere insomma budget importanti di spesa militare anzitutto la Germania questo è proprio il secondo punto con questa scelta Putin sostanzialmente ha azzerato i rapporti con quello che era il suo principale sponsor della Russia che se ne dica nell'Unione Europea ossia la Germania sapete tutta la questione del Nord Stream 2 eccetera eccetera la Germania ha sostanzialmente tagliato la possibilità dell'attivazione del Nord Stream 2 allo stesso tempo ha promesso 100 miliardi per un riammodernamento del suo settore della difesa una svolta dell'Unione Europea che fino a qualche settimana fa si presentava come una potenza normativa che riusciva a guidare gli altri con la forza dell'esempio il problema che ben poche volte poi c'era riuscito davvero ad oggi abbiamo un'Unione Europea per bocca della Presidente della Commissione von der Leyen che l'altro ieri ha detto che l'Unione Europea per la prima volta acquisterà armi e li fornerà qualcuno perciò da potenza normativa a potenza punto interrogativo ma qualcosa di simile questo naturalmente è funzionale anche il famoso progetto dell'autonomia strategica lanciato da Manuel Macron arrivo quasi alle conclusioni ancora due stati paria in particolare uno fondemente antirusso ossia la Polonia e l'Ungheria due stati paria all'interno dell'Unione Europea per tutte le vicende che sapevamo sono diventati invece incredibilmente nel giro due settimane due stati centrali per l'Unione Europea hanno acquistato peso politico perché sono i due stati garanti dei corridoi umanitari per la fuga dei profughi e allo stesso tempo per le forniture di armi a chi resiste invece in Ucraina ultimi due punti un qualche vantaggio che può arrivare dall'Italia il blocco di Nord Stream 2 inevitabilmente perciò il blocco del progetto della Germania come hub energetico per l'Unione Europea rende più importante e più pesante l'Italia nel processo di diversificazione dell'approvvigionamento energetico dalla Russia sappiamo come ieri Descalzi insieme a Di Maio sono andati proprio in Algeria per chiedere un maggior afflusso di gas da parte di Sonatrac infine qui veramente concludo la Federazione Russa con questa scelta perde flessibilità per questi 20 anni di presidenza Putin ha fatto un po' il pendolo tra Stati Uniti Unione Europea e Cina ad oggi avendo fatto questo passo e con questa risposta da parte delle potenze occidentali è costretta a finire le braccia cinesi questo naturalmente non la favorisce perché è il soggetto debole all'interno di una partnership con un soggetto molto molto più forte scusate per la lunghezza grazie Roberto Pascha di Magliano ha una suggestione ma c'è una domanda che arriva dai nostri studenti per il professor Natalizia quindi prima di dare la parola a professor Andrea Cartini attendiamo un attimo perché ci chiede Francesco Del Rio è possibile vedere in questa strategia aggressiva della Russia un modo per prolungare e rafforzare l'attuale leadership di Vladimir Putin ci sono delle minacce interne e allora grazie per la domanda allora spesso e volentieri vengono usate le guerre come una sorta di valvola di sfogo per tensioni interne il famoso effetto rally round the flag ossia tutti intorno alla bambiera per contrastare il nemico comune ad oggi non sembrerebbe perché poi la guerra deve anche andare per il verso giusto non parliamo assolutamente di una disfatta della federazione russa come sembrerebbe leggere da alcuni giornali c'è un rallentamento delle operazioni ma già il fatto che la Russia in 5 giorni è andata a trattare è un segno di debolezza in più sembrano emergere delle crepe all'interno del regime russo sembra che l'intelligence non fosse così d'accordo con l'opzione militare Lavrov è praticamente una settimana che è scomparso anche questo fa pensare a una sua non volontà di esporsi troppo su questo tema e probabilmente anche la Marina non è stata convinta della manovra che è stata realizzata solitamente per esserci un regime change ma siamo ancora lontanissimi da tutto questo ricordiamo che Putin al governo da 20 anni ha un blocco di potere che è qualcosa di rialdante ma se le proteste su piazza crescessero e si saldassero a degli elementi della ritta di governo che defezionano perché no se la crisi durasse la guerra durasse mesi e avesse dei risultati negativi si potrebbe anche pensare a un'uscita di scena di Putin e allora passiamo alle relazioni internazionali perché in questo caso occupano un posto fondamentale manca secondo il professore Andrea Cartini un attore capace di mediare tra ciò che sta accadendo in Ucraina quindi tra la Russia e le potenze occidentali in questa fase manca qualcuno che riesca un po' a dirimere la questione possa fare da mediatore sì grazie grazie Roberto Sciarrone grazie al magnifico rettore Biagini a Unitelma Sapienza per l'organizzazione di questo di questo importante incontro anche e soprattutto di storia del presente perché stiamo vivendo la storia con la crisi e il conflitto in Ucraina beh io prima di dire che se ci possa essere o meno un mediatore ricordo alle lezioni di storia dell'Europa orientale del professor Biagini di Ungherese quando si parlava della metafora della storiella del contadino di Munkaccio di Mukacevo naturalmente la dizione è ungherese e anche in Ucraino quindi il contadino di Munkaccio perché era minoranza diceva beh sono nato nell'Austria-Ungheria sono cresciuto in Cicoslovacchia nel regno di Ungheria durante gli anni della guerra poi sono diventato cittadino sovietico e adesso sono cittadino della Repubblica Ucraina dopo il 91 e ho cambiato cinque passaporti ma non mi sono mai mosso dalla mia casa di campagna dal mio posto in cui sono nato e questo è un po' il paradosso ci sarebbero tanti mediatori in questa crisi ci sarebbero tante comunità tanti ambienti capaci di poter essere parte della mediazione però il problema è proprio questo le nazionalità i nazionalismi soprattutto i fenomeni di nazionalismo si nutrono degli altri nazionalismi quindi un nazionalismo ucraino è cresciuto con il nazionalismo o la concezione russa dell'impero e dell'eurasia come spazio in qualche modo legato come una legacy identitaria territoriale importante dell'impero russo e poi dell'unione sovietica e questo è un po' la vera ricchezza ma anche il vero dramma dell'Ucraina l'Ucraina è il più grande paese europeo più grande della Francia da un punto di vista territoriale conta ormai meno di 40 milioni di persone a una proiezione geopolitica straordinaria nell'est Europa forse pari soltanto alla Polonia dell'età moderna potremmo dire penso un po' alla Polonia degli anni a queste terre che sono delle terre senza confine e non delimitate più che altro dalle istituzioni qui permettetemi il riferimento a una storica che ha studiato questo tipo di istituzioni come Giovanna Motta che parlava delle istituzioni come ambito di crescita delle identità cioè le istituzioni creano l'identità se voi andate a vedere la Lituania anti-Lukashenka porta le bandiere che nascono dall'unione quella che si chiamava unione o confederazione polacco-lituana quindi diciamo parlando della Bielorussia però cioè in Bielorussia il senso delle istituzioni non legate a Mosca era quel tipo di istituzioni legate in termini feudali a quella che era appunto la terra della Bielorussia le province bielorusse legate alla Polonia Lituania del del 600 e questo è molto importante perché i simboli creano mobilitazione noi nei Nation Studies grazie un po' anche agli studi ormai che riescono con cui riusciamo a interfacciarci all'interno di questo tipo di fenomeni utilizzando strumenti antropologici sociologici sociolinguistici vediamo come anche e soprattutto l'etno simbolismo delle istituzioni sia capace di creare naturalmente auto identificazioni e una sorta di capacità di sentirsi parte di una comunità e qui penso un po' ai riferimenti che il professor Biagini ha fatto precedentemente cioè come l'Ucraina pensi se stessa dal 600 in poi come Kiev sia una o Kiev sia una città non soltanto dalla duplice edizione ma sostanzialmente contesa la Russia di Kiev ha dato vita alla Russia ma la Russia di Kiev ha dato vita anche all'Ucraina e quindi quali di queste è la vera storia la verità è che poi la storia dipende da come la si vede dipende anche da come la si vive trovare l'oggettività della storia dalla nuova storia e poi sappiamo che è praticamente impossibile mentre è importante capirlo facendo l'abbiamo sentito prima veramente facendo un po' cercando le ragioni della storia del nemico del professor Breccia faceva questo riferimento per capire non per giustificare e quindi in questo senso c'è bisogno di un mediatore per esempio la Bielarussia e i processi di Minsk non soltanto per quanto riguarda l'Ucraina ricordiamo che a Minsk ci sono delle sale straordinarie in cui sembra si mangi benissimo quindi tutti fanno lì le mediazioni partendo dal Nagorno Karabakh a tutte le altre mediazioni che venivano fatte in questi luoghi e invece sappiamo che dopo la crisi in qualche modo di consenso anche internazionale di legittimità internazionale del presidente Lukashenka in queste ultime ore ha tentato un po' di sfilarsi dall'engagement di una truppa russa ormai vincitrice dietro cui sarebbero arrivate le ultime brigate bielorusse e nello stesso tempo ci potrebbero essere altri mediatori penso alla Turchia di Erdogan che in qualche modo non nega né favorisce l'uno e l'altro non ha dato una risposta chiara sull'entrata delle navi da guerra all'interno del Mar Nero quindi controllando gli stretti cercando di trovare una posizione per mantenere come dire in piedi il sistema della convenzione di Montreux però nello stesso tempo anche mantenendo un asse con la Russia che sebbene in qualche modo negato dalla storia però sembra negli ultimi anni funzionare anche per le tendenze di alcuni tipi di governi i tendenti all'autoritarismo come in questi paesi come nella Turchia di Erdogan permettetemi un riferimento all'Ungheria-Polonia perché è interessante vedere come la Polonia sicuramente è sempre stata schierata fin dal 2014 forse anche troppo diciamo è stato uno dei paesi che un po' ha sbilanciato quello che era un momento delicato del processo di adesione alle istituzioni euroatlantiche come si dice secondo formula onnicomprensiva di Kiev e dell'Ucraina al tempo e anche l'Ungheria che in questi giorni sta naturalmente pubblicizzando l'assistenza che sta avendo proprio da quella regione di Munkacevo del contadino di prima attraverso cui passano sono passati ormai decine di migliaia di profughi e parliamo di un flusso importante ormai superiore ai profughi del 56 ungherese perché sono oltre 370.000 400.000 e quindi per capire anche che tipo di incompatito sono quasi tutti i polacchi perché vanno da quella parte no è interessante che il premier il presidente il capo del governo Orban sia andato al confine con l'Ucraina dall'altra parte del confine c'è questa regione sotto Munkac Beregovo Bereg-Sas che è una piccola cittadina e c'è il confine della Carpatalia di cui si parlava prima a proposito della piccola chiesa Rutena infatti in questa regione c'è un'altra chiesa autonoma e in questa regione naturalmente i profughi che arrivano parlano ucraino ma parlano anche ungherese perché c'è questa minoranza ungherese del confine che è una minoranza ormai abbastanza insignificante all'interno di un'Ucraina di 40 milioni di persone ormai forse neanche 100.000 persone in realtà e questo voglio fare questa citazione perché è interessante vedere come cambiano le posizioni come ha detto il professore quando all'inizio ha aperto il convegno di fronte a chi usa la forza e che quindi passa dalla parte del torto questa regione di 100.000 parlanti ungherese con una importante coscienza identitaria ungherese però sostanzialmente sotto i Carpazzi i contadini una zona strategicamente forse importante ma per il resto non c'è nulla bellissima non null'altro era un po' uno dei motivi di freddezza dell'Ungheria all'interno del sistema dell'alleanza atlantica all'interno dell'Unione Europea proprio di fronte diciamo al centralismo al centralismo nazionalista del governo ucraino dal 2014 in poi soprattutto di quest'ultimo governo del presidente Zelensky e invece nelle ultime ore naturalmente sappiamo che lo stesso Orban che in qualche modo era stato uno dei di coloro che si proponevano come forse più filorussi nel contesto fino a qualche tempo fa invece andava a sostenere con assoluto nessun dubbio sia a sostenere la parte umanitaria sia a sostenere tutti gli impegni delle istituzioni europee e dell'alleanza atlantica per sostenere l'Ucraina aggredita quindi ecco in questo senso è importante pensare a queste situazioni in cui probabilmente la storia sarebbe stata differente non si fa la storia con i sé sicuramente l'approccio gli anni di cui ha parlato il professor Biagini il 2014 anche un po' quel tecnicismo che abbiamo ben sentito dal professor Carta dei tecnicismi di Bruxelles che sono corretti ma che in un contesto di questo genere abbiamo parlato degli ungheresi la verità è che ci sono i rumeni in Cernauzzi i bulgari nella regione di Odessa ci sono tutti i russofoni e non solo nella regione della Novorossia ci sono i polacchi della regione di Leopoli e via dicendo quindi un'Ucraina così composita che aveva sotto il governo oggi diremmo dei cleptocrati di Yanukovic però un sistema sostanzialmente federale che riproduceva nell'Ucraina l'etno federalismo sovietico non inventavano nulla però con le lingue quindi loro li amano un po' questo sistema per quello Yanukovic poi aveva in qualche modo vinto delle elezioni che non erano state libera però abbastanza corrette poi erano state definite quando ha vinto poi vabbè con il Maidan è diventato il nemico di tutti però fino al giorno prima lui stava facendo le trattative con Bruxelles ecco in quel caso per esempio è chiaro che la reazione di fronte ad un out-out europeo diciamo quando la Troika disse se vogliamo procedere l'associazione ti devi sganciare dai legami con l'Unione Euroasiatica economica e con i legami con il mercato della federazione russa in un contesto del genere probabilmente a rivederlo oggi possiamo dire che non è stato il migliore dei modi per procedere su una trattativa perché quello ha fatto esplodere le contraddizioni di un mondo che aveva queste delicatezze aveva queste sensibilità un mondo che era rimasto in equilibrio con Sebastopoli concessa ai russi con la flotta con tutta una serie quindi anche di autonomia pensiamo alle autonomie in Crimea prima è stato citato i musulmani di Crimea questi musulmani di Crimea sono il lascito l'ultima comunità dei tatari di Crimea canato sotto sovranità ottomana associata all'impero ottomano fino al 1774 il canato dominante attenzione poi dopo naturalmente la storia ne fa una comunità che poi viene rideportata in Asia ma questa è una comunità importante una comunità da un punto di vista culturale molto forte identitariamente molto forte ecco tutto questo è crollato e naturalmente anche la questione della Crimea tutto ciò che ne è conseguito nel 2014 o il Donbass Lugansk è stato un po' anche diciamo causato da questa probabilmente incapacità di comprensione di una serie di delicatezze però è chiaro che oggi come oggi sono saltati tutti questi parametri e quindi naturalmente stiamo parlando di un contesto completamente sconvolto dal conflitto ma credo che sia importante comunque pensare e poter dire che ecco in questo contesto anche questo tipo di minoranze di fronte a questa aggressione si stanno ricompattando anche di fronte intorno a quello che è lo Stato ucraino e questo credo che sia qualche cosa da prendere in considerazione grazie grazie la Grimea non è mai stata con l'Ucraina ti racconta che fu un'azione arbitraria di Khrushchev ucraino una sera che forse aveva anche bevuto parecchio e decise di darla all'Ucraina perché non c'era mai stata quindi anche qua il problema tu hai detto bene quando ci fu la questione della Grimea dicevo recuperate i tatari che pur sono deportati da Stalin e riportate in Grimea allora se volete dare un'identità a questo però per gli studenti è importante sapere che la Grimea non è mai stata con l'Ucraina se non negli anni 60 di Khrushchev quando fece questa azione diciamo all'interno di un sistema come quello sovietico di dare un territorio a uno piuttosto che a un altro perché se no non si capisce questo problema della Grimea grazie anche al magnifico rettore e al professor Andrea Cartelli per le suggestioni tra l'altro spesso trattate negli ultimi anni nell'ambito del dottorato di storia dell'Europa dalla professoressa Giovanna Motta che è coordinatrice che non solo toccati nell'ambito di eventi di questo tipo ma anche di pubblicazione di grandi convegni internazionali quindi mi piace ricordarlo se fosse l'ultimo spot perché poi alla fine mi sono perso dietro a Munkacevo vedo il professor Francesco Dante con cui abbiamo condiviso tante discussioni ma anche tante condivisioni di quello che è lo spirito greco-cattolico questo è stato citato precedentemente proprio dal dal rettore D'Adamo proprio sulla ricchezza dell'Ucraina ma anche sulla coscienza di come l'Ucraina e in questo caso ritornando che torna rimane all'interno del cattolicesimo quindi occidentale di essere una terra di passaggio ma di essere anche una parte importante di questa identità occidentale penso in questo senso al reportage sostanzialmente di Vladimiro Zabuchin un professore della Sapienza il professor Biagini ne ha riportato memoria pubblicando le sue relazioni al Ministero degli Esteri quando venne mandato dal governo italiano durante l'anno delle rivoluzioni le due rivoluzioni russe tra quella del febbraio e dell'ottobre in Russia e lui scrisse oltre alle relazioni per il governo raccolse foto e scrisse anche questo volume il gigante folle che poi è stato ripubblicato da Mirage Edizioni anche con un saggio del collega Gianpaolo Castelli dell'introduzione del professor Biagini proprio perché chiaramente il titolo evocativo è il tentativo di comprensione di un mondo che se perde o se non viene compreso naturalmente può rompere tutto diciamo ha questa tendenza e Vladimiro Zabuchin era un russo di Pietroburgo professore della sapienza che era greco cattolico cioè credeva nella riunificazione delle chiese della chiesa ortodossa e della chiesa latina della chiesa romana perché considerava questo il principio per salvare il mondo dalla guerra credeva sostanzialmente in quello di cui stiamo parlando ancora oggi anche il processo ecumenico il processo di dialogo interreligioso come canale per la risoluzione almeno per lo meno la possibilità di interrompere i conflitti bene se non ci sono altri interventi allora io ringrazio tutti i partecipanti e l'8 marzo vi ricordo due appuntamenti l'8 marzo presenteremo presenteremo un libro tra l'altro che è ambientato nella Russia però degli zarri quindi tanto tempo fa ma durante la rivoluzione parleremo della donna della donna nell'ambito della rivoluzione russa con autorevoli esperti ma anche l'incontro del 21 di marzo quando presenteremo il libro scritto anche da Andrea Cartemi Gabriele Natalizia e altri autori sulla Nato e continueremo a parlare probabilmente di quello che sta accadendo anche adesso quindi faremo un duplice intervento su questo grazie a tutti coloro i quali ci hanno seguito siete stati tantissimi ci avete inviato molte domande è stata un'occasione molto ma si può anche ripetere sicuramente e grazie a tutti i nostri autorevoli relatori alla prossima grazie a tutti i nostri